Il coronavirus ha lasciato dietro di sé importanti ripercussioni sulla salute. A causa della paura di contrarre la malattia, ha tenuto molte persone lontano dagli ospedali, anche in caso di emergenza. E così, patologie neurologiche e cardiovascolari hanno registrato una drastica riduzione di ricoveri che crea allarme. La mortalità per infarto è triplicata e i numeri sono eloquenti. In questi ultimi giorni, nelle ultime due settimane, è emerso un dato molto preoccupante, che è quello che durante il picco massimo della pandemia abbiamo assistito ad un decremento molto importante dei ricoveri, sia di urgenza che elettivi, per malattie cardiovascolari. In media nel Paese sono diminuiti di circa il 60% e la Campania non fa eccezione a questo numero. È un dato preoccupante perché questo mancato attenzionamento da parte del paziente di andare in ospedale per timore dell'infezione ha comportato un aumento di tre volte della mortalità per cause cardiovascolari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E questo aumento di tre volte della mortalità è un dato che in questo momento ci preoccupa moltissimo. Per cui quello che mi sento di dire alla popolazione generale è che intanto siamo ormai nella fase 2 e quindi il numero dei nuovi infetti sta diminuendo progressivamente in maniera anche molto rapida in Campania. Ma che sicuramente se ci sono dei sintomi che possono far pensare ad una malattia cardiovascolare, ad un infarto o quant'altro, il paziente deve venire in ospedale perché a fronte di una possibilità molto remota di infezione vi è la quasi certezza di un aumento della mortalità che potrebbe essere sicuramente scongiurato cercando attenzione, cercando il ricovero presso gli ospedali. Copione simile per i pazienti con malattie del sistema nervoso. La riduzione di ricoveri in tutta Italia è drastica. Ora è urgente ripartire. Di sicuro la neurologia, come tutte le altre discipline, ha avuto una riduzione del numero di ricoveri e questa riduzione ha riguardato tanto le patologie tempo dipendenti, tanto le patologie croniche, tanto le attività ambulatoriali. Quindi queste andranno riprese. Andranno riprese e ci dovremo riflettere perché questa emergenza ci ha insegnato una cosa positiva che una parte del lavoro si può fare con il videoconsulto. E questo è un insegnamento che ci servirà per il futuro perché anche in futuro potremo continuare a soddisfare parzialmente perlomeno la richiesta di assistenza grazie ai videoconsulti. Dopodiché bisognerà riprendere. Bisognerà riprendere sia il lavoro per i pazienti cronici che nel frattempo non sono stati adeguatamente assistiti. E lì è più facile. È più difficile invece recuperare quello che non è successo di positivo per i pazienti acuti. Perché chi ha avuto un ictus e andava assistito al momento dell'ictus a questo punto non può essere assistito per la fase acuta. Però per la fase cronica di sicuro dovremo riaggiustarci. E probabilmente il riaggiustamento, essendo in una fase di riaggiustamento, si potrà finalmente pensare ad una fetta dell'assistenza neurologica che è penalizzata. Perché noi siamo abituati a pensare in termini di patologia acuta, ospedale, patologia cronica, territorio. Rimane però una fetta di pazienti, pazienti cronici complessi che teoricamente se l'ospedale fa acuto non sono ben piazzati nell'ospedale. Se sono pazienti cronici complessi è difficile che possano essere assistiti dal territorio che non può avere tutte queste competenze. Quindi io spero che all'interno di questa riorganizzazione riusciamo finalmente a identificare uno spazio per i pazienti cronici complessi. Che andranno seguiti in ospedali universitari, negli IRCS, che hanno le competenze per fare questo lavoro.